Allora la punizione del peor, vediamo Fate i buoni Aspetta che non puoi spiare perché c'è tutta una serie di cose Dai Stefano Questa settimana, faccio così, mi metto in piedi sulla cassa come quando facevo la recita natale, la poesia Questa settimana il peor sarà la governante dell'isola Cioè? Ogni giorno il mejor darà al peor un compito da svolgere E dovrà assicurarsi che lo completi in modo soddisfacente In caso contrario, sia il mejor che il peor perderanno la loro porzione quotidiana di riso Come prima penitenza, domani il peor dovrà seguire il fuoco per tutta la notte Dovrai seguire il fuoco tutta la notte, Franci Francesca dovrà seguire le indicazioni di Jonathan, giusto? Sì Alessia ma non posso non dormire però Sarà la governante dell'isola Guardate la faccia di Jonathan Jonathan sei bellissimo Ma io non posso non dormire Dormirai di giorno Se no siamo il dottore Non posso non dormire